Ringrazio le persone che si erano rese disponibili a far parte di tale governo tecnico e ringrazio i dipendenti della Camera, io avevo un ufficio alla Camera, ringrazio i dipendenti della Camera e delle altre organizzazioni dello Stato che hanno consentito la mia attività, che mi hanno aiutato nella mia attività. Poi si scusa con i giornalisti nei confronti di quali ha mantenuto un riservo inusuale di questi tempi. Scusatemi se nei giorni scorsi sono stato un po' troppo silenzioso con voi, grazie. Una discrezione e una sobrietà che il Quirinale apprezza con un ringraziamento che non è solo formale. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha espresso il proprio ringraziamento al Dottor Carlo Cottarelli per la serietà, il senso delle istituzioni e la costante attenzione all'interesse nazionale che hanno caratterizzato l'impegno svolto nell'espletamento dell'incarico affidatogli. Aggettivi che descrivono un servitore dello Stato che esce di scena tra gli applausi. Applausi. Grazie.